musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia manca veramente pochissimo oggi è martedì e fra pochi giorni vedremo finalmente l'evento della season 3 2 di fortnite quello che ci porterà alla season 3 posso già confermarvi che non ci saranno degli altri ritardi è una conferma al 99,9% ne parlano tutti ci sono delle cose che adesso vi faccio vedere che mi danno la certezza di quello che vi dico ma nel video di oggi vedremo anche una nuova strategia molto interessante e dei dettagli molto utili per godersi a pieno questo nuovo evento prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che si stanno iscrivendo al secondo canale grandi raga xyuder best moment e grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di utilizzarlo nello shop e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e si parla di un grande ritorno un evento celebrativo per salutare per l'ultima volta deadpool e quello che c'è intorno a lui si parla del possibile ritorno oggi addirittura oppure domani delle due skin dedicate quindi il raven e l'orsacchiotto che hanno entrambi la copertura o meglio lo stile di deadpool se ve le siete persi dovrebbe essere questa l'ultima occasione per poterli ottenere nello shop sono molto carini dai alla fine adesso che li rivediamo ci hanno il loro stile mi piacciono entrambi e quindi non perdete l'occasione ovviamente di averli nella vostra collezione perché probabilmente non li vedremo più andiamo avanti a parlare di il prossimo argomento di oggi ed è una conferma appunto una di quelle che vi dicevo siamo arrivati alla 443 esima prova su strada della season 3 quindi della patch 13.00 in realtà sono fermi alla 443 esima prova da due o tre giorni il che ci lascia ben sperare che siano finalmente arrivati alla fine questo ci fa anche pensare che in realtà i vari delay della season è vero per tutto quello che è successo ma sono anche a causa del fatto che non fossero al 100% pronti ci fa anche dire un'altra cosa però vedere che hanno provato 443 volte la nuova stagione che sarà un qualcosa di incredibile lo deve essere ne sono sicuro che lo sarà e probabilmente vedremo cose che ancora non immaginiamo quindi ragazzi tanta roba anche per quanto riguarda i file di gioco e siamo direttamente passati ad un'immagine molto interessante perché come sappiamo tutti e come non vediamo l'ora ci sarà l'evento il 15 lasciate perdere quello che c'è scritto sotto qua dove appunto l'immagine è vecchia dove si parlava ancora dell'evento del 30 maggio ma quello che è interessante in questa immagine sono i tre punti di osservazione per l'evento entrando appunto nella ltm dedicata vi ricordo che ci sarà un'unica ltm probabilmente verrà disabilitato tutto il resto la creativa le squad le duo è molto probabile che facciano così come hanno fatto anche in precedenza e questi tre punti sono davvero molto curiosi il primo quello che vedete proprio qua è nella roccia vicino nella costa della fattoria in poche parole no abbiamo un buon punto di rialzo e vediamo totalmente tutta l'agenzia quello che c'è un pochettino più di là invece rimaniamo sempre dietro l'agenzia praticamente dove appunto l'ingresso principale è rivolto dall'altra parte e noi essendo dietro siamo in poche parole nella piccola collinetta che c'è alla sinistra del della casa del crack shot un altro buon punto di osservazione mentre il terzo quello lì che vedete in basso siamo subito dopo aver passato borgo bislacco quindi vediamo praticamente la parte frontale dell'agenzia e tutta la struttura ora la domanda è per vedere l'evento bisogna andare dentro bisogna rimanere fuori secondo me questi tre punti sono da tenere in considerazione riusciremo a vederlo veramente molto bene e non credo che sia necessario forse addirittura non possibile entrare per godersi a pieno l'evento e andiamo avanti ragazzi a parlare di un altro argomento molto molto curioso perché questa immagine sta un po facendo il giro dei forum in queste ultime ore potreste anche vederla in qualche video barra titolo clickbait no è totalmente fake ragazzi come vedete manca l'acqua ok è semplicemente un'immagine in 3d modificata e quindi abbiamo hanno tolto l'acqua ma la cosa interessante in realtà è l'argomento di cui voglio parlarvi allacciandomi a questa immagine è un video ragazzi che sembra essere successo a qualcuno molti dicono sia fake quindi prendetelo come sempre con le pinze ma praticamente c'è stato un piccolo bug dopo essere arrivato alla schermata di caricamento pre partita lo schermo è diventato nero a questo ragazzo e si sono viste delle onde e si sente sotto un rumore cerco di farvelo sentire al volume più alto possibile dura pochi secondi e io non parlo guardate un po come avete visto ragazzi un fatto veramente curioso alcuni dicono che sia proprio l'effetto delle onde del mare cosa che si sente anche quando si cambiano le skin nell'armadietto a me personalmente non è mai capitato ripeto molti dicono che sia fake quindi prendiamolo con le pinze una curiosità che appunto dovrebbe avvalorare la teoria di tutta questa acqua che sommergerà la nostra mappa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per tutti i ragazzi che hanno acquistato la skin airhead e l'hanno pagata a 1500 v bucks arriva direttamente un messaggio da fortnite status che dice noi abbiamo fatto uscire la skin airhead per 1500 v bucks ma in realtà volevamo farvela pagare 1200 quindi molto probabilmente in queste ore troverete un accredito di 300 v bucks sul vostro conto per scusarci ovviamente ve li restituiamo per scusarci appunto dell'inconveniente quindi una cosa molto molto interessante tanta roba e io sapevo abbiamo già visto un mese e mezzo fa abbondante che la skin airhead era stata modificata ed era stata trasformata da rara ad epica si vede che poi hanno fatto marcia indietro hanno deciso di tenerla di rarità e rara ma non si sono ricordati di aggiornare il costo e quindi ragazzi 300 i bucks ci vengono ridati andiamo avanti a parlare di un altro argomento veramente molto interessante come vedete c'è un personaggio che sta modificando comunque editando una scala questo è un video che voglio farvi vedere uno spezzone anche qua molto molto breve di una nuova tecnica che sembra essere molto efficace per riuscire a bloccare in un box l'avversario se devo essere sincero avendo visto praticamente tutta l'evoluzione del gameplay di fortnite nelle season precedenti io vedevo spesso e volentieri gente che utilizzava il tasto di rotazione dei pezzi è raro oramai trovare qualcuno che ruota i pezzi io stesso li ruotavo un po' di tempo fa poi si è persa via un po' questa cosa più o meno quando sono entrati i 90 in poche parole ma guardate guardate un pochettino che roba interessante che fa questo giocatore praticamente vediamo se riesce a partire nel box davanti a lui c'è un avversario ok quindi questa è una situazione che succede spesso e volentieri quando stiamo fightando magari il nostro avversario si boxa per vedere la nostra mossa noi scendiamo gli prendiamo il livello ok siamo allo stesso livello e appena gli prende il muro lui gli piazza dentro una scala ruotata piazza dentro una scala ruotata come vedete l'avversario rimane un pochettino così a cos'ha perché non capisce bene la situazione ci dà il tempo di riprendergli il muro frontale un edit super fast a parte che lui è stato velocissimo a fare l'edit e mentre lui non sa bene dove spostarsi gli si spara un colpo in faccia veramente molto molto easy vi faccio rivedere tutta la sequenza senza gli stop guardate un po' è davvero molto curiosa molto interessante come modalità di attacco bisogna solamente essere veloci a ruotare la scala però una volta che poi lo intrappoliamo sotto è praticamente quasi impossibile emissare il colpo perché lo spazio che c'è tra i muri e il giocatore è praticamente quello grande quanto il mirino del nostro fucile a pompa quindi pensateci è davvero una cosa molto interessante e spero vi sia stata utile e direi che siamo arrivati anche per oggi ragazzi alla fine del video news io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao